Sì per 6 mesi, ma già stanno facendo l'occhio, l'occhio l'occhio, l'occhio l'occhio. Tutto bene? Tutto bene. Ma che forse va qua? Il rudi il ruisho, il rudi il ruisho, il rudi questo ruisho. Tutto bene, non mi rega? Cosa sono? Non si è la fine. Forse venissi, non essere sempre un'occhio. Cosa è la fine. Non si è diciamo per la fine. Grazie a tutti